Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta nel comune di Cortona nella serata di martedì. Circa 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, prevalentemente per scantinati allagati e danni causati dall'acqua. Effettuati anche tre soccorsi di automobili rimaste in panne. Cinque le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da tutta la provincia, che hanno operato sul posto. Eccezionale bomba d'acqua a Cortona, così la pagina a Facebook dell'amministrazione comunale, sopra il luogo a Riccio, Terontola, dove la situazione si è fatta più complicata a causa di vari smottamenti e sollevamenti di asfalto. Stiamo lavorando per ripristinare al più presto la normalità. Un grazie al coordinamento della protezione civile del nostro comune, alla provincia, ai Vigili del Fuoco, ai Vigili Urbani, ai comuni cittadini che stanno dando una mano. Il peggio sembra essere passato.